NAMIBIA Benvenuti in Africa. State per vivere la più straordinaria, coinvolgente e indimenticabile avventura in 3D. Viaggeremo insieme dalle coste desertiche della Namibia, attraverso il cuore misterioso del continente, per portarvi fino al Kilimanjaro. Sospesi tra cielo, terra e acqua, verrete conquistati da un paese meraviglioso, che vi abbracerà con la magia del 3D. Lasciatevi accarezzare dal respiro dell'Africa. E la notte, chiudete la tenda. Un'avventura nella vita selvaggia, che non dimenticheremo mai. African Safari 3D Conserva il biglietto e scopri come vincere un safari per tutta la famiglia e vedere da vicino lo spettacolo della natura. Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie.